Già nell'antichità esistevano i demoni, i daimones, che però non valevano ancora come spiriti maligni, almeno fino all'età ellenistica. Erano semplicemente delle divinità considerate minori rispetto agli dei maggiori, i cosiddetti zeoi. Ecco, correlato a daimon e daimonion. Socrate diceva di sentire o di seguire un daimonion, un demone, un segno divino. Nel fedro platonico Socrate parla di un semeion, cioè di un segno, per lui consueto, che di solito si manifesta per impedirgli di fare qualcosa che sta per fare. Mi è sembrato, dice, di intendere una voce che veniva da lui. Dunque, una voce interna che lo mette in guardia dagli errori, una sorta di inibizione interiore, come è stato detto. Diversamente, nella testimonianza di Senofonte, il demone dà indicazioni positive a Socrate su cosa fare, non su cosa non fare. Ad ogni modo è chiaro una cosa, è chiaro che questo demone non è affatto negativo, ragion per cui nei secoli successivi il daimonion di Socrate fu addirittura persino interpretato come un angelo custode. E comunque la filosofia della scuola platonica, ad un certo punto, tra i successori di Platone, incominciò ad interessarsi di demonologia. Difficile dire che cosa sia questo daimonion, anche perché Socrate non sappiamo che cosa pensasse al riguardo. Lo dà come un dato certo, ne parla come un'esperienza reale. In tanti poi hanno tentato di venirne a capo. Nell'apologia, quando da imputato Socrate deve giustificare il proprio operato, dichiara in me c'è qualcosa di divino e di demonico. Mi capita fin da quando ero ragazzo sotto una specie di voce che quando si fa sentire è sempre per distogliermi dal fare quel che sto per fare, mai per incitarmi. E se qui nell'apologia dichiara che questo segno divino si oppone al suo impegno nell'ambito della vita politica, nella Repubblica attribuisce invece sempre al segno divino la scelta di una vita filosofica. Certamente anche questa idea del suo daimonion dovette alienargli le simpatie dei suoi concittadini. Poteva sembrare che Socrate venerasse una divinità segreta e senza nome, che magari fosse in grado di conferirgli dei poteri speciali. Ed ecco spiegata dunque l'accusa di ateismo o di esercizio di pratiche magiche. Consideriamo che soltanto i maghi rendevano magi in privato a divinità senza nome. È ben vero che per gli antichi greci il rapporto con il divino contava molto. al punto che l'oracolo di Apollo ad Elphi rappresentava una tappa obbligatoria prima di mettere in atto qualunque iniziativa, sia nel privato che nel pubblico. Ecco, fatte le debite proporzioni, possiamo dire che nel caso di Socrate la voce del Dio doveva rappresentare una sorta di oracolo privato. Nell'apologia Socrate dichiara che nella circostanza del processo, ossia all'estremo dei mali, così lo definisce, sia quando è uscito di casa il mattino, sia quando è entrato in tribunale, sia durante il discorso, il segno divino non si è manifestato. Quindi non l'ha trattenuto dal presentarsi al processo. Tanto basta per fargli concludere, e sembra paradossale, che quanto gli è capitato rappresenta un bene per lui, e questo in netta contrapposizione sono parole sue con quanti ritengono sbagliando che morire sia un male. Dichiarazione molto coraggiosa se consideriamo che la prospettiva per lui è proprio quella di una condanna a morte. Insomma, anche in questa circostanza, Socrate ci pare tranquillo, al di là di ogni segno, anche divino. iscriviti al canale. Grazie. Grazie.